Ci sono due indagati nella vicenda della morte per annegamento, anche se dovrà essere l'autopsia a confermarlo, di Mohamed, il 14enne marocchino disperso in mare a Giulianova nella giornata del lunedì 24 giugno, e il cui corpo senza vita è stato ritrovato appena fuori dall'imboccatura del porto due giorni dopo. Nelle scorse ore sono stati notificati gli avvisi di garanzia ad un bagnino dal legale rappresentante dell'azienda che gestisce il salvamento a nuoto. Si tratta di un atto dovuto in questa fase anche per consentire agli indagati la nomina di un consulente di parte nell'autopsia disposta dal sostituto procuratore André De Feis, titolare delle indagini, sul corpo del 14enne marocchino. Le indagini coordinate dalla procura di Teramo vogliono provare a stabilire se ci siano stati davvero ritardi nell'operazione di soccorso a Mohamed, poi deceduto. L'amico che insieme a lui era entrato in acqua ha raccontato fin da subito di non essere stato creduto quando ha dato l'allarme. Sia la guardia costiera che i carabinieri della compagnia di Giulianova stanno provando a ricostruire i fatti, avendo già ascoltato diverse testimonianze, per poi far rapporto completo al magistrato inquirente. Mohamed e il suo amico Said erano partiti da Teramo nel discorso per raggiungere Giulianova e fare il bagno. Come è noto i due sono entrati in acqua su un materassino gonfiabile e dopo essersi allontanati dalla riva i due ragazzini sono infatti rimasti in balia del mare mosso. Said è riuscito a tornare indietro a nuoto e dare l'allarme mentre Mohamed è stato inghiottito dal mare. Infine domani mattina verrà effettuata all'obitorio dell'ospedale di Teramo l'autopsia sulla salma del povero ragazzo.